what's going on youtube bentornati sul mio canale gabs bikes and barbecue oggi prepareremo del filetto di maiale ecco qui il filetto di maiale mondato del grasso della pleura insaporito con aglio pepe bianco salvia e rosmarino 2400 settato al massimo la temperatura sta salendo tra poco lo metteremo in cottura di resta eccolo qui che stai mandati il nostro filetto di maiale lo tireremo giù a circa 65 67 gradi qui appena girato e sforzo anche con un po di maggiorana fresca ha un profumo buonissimo seconda girata guardate che bel colore che hanno preso controllo temperatura ci siamo eccoci qua 65 raggiunti tiriamo giù tutto il filetto rimasto bello rosa all'interno temperatura al cuore 65 gradi con un pizzico di sale il sapore della carne è ancora più esaltato veramente un ottimo risultato morbidissimo gustosissimo sono veramente veramente soddisfatto al prossimo video ciao a tutti